Adesso vorrei ritornare al tema delle esternalizzazioni perché io direi che c'è un'attenzione morbosa ed eccessiva del legislatore nei confronti delle cessioni di ramo in azienda perché nella sostanza questa legge tocca almeno in modo pesante tre ambiti della materia delle esternalizzazioni. Abbiamo visto il problema della carosola compromissoria che in questo caso si è aperto un problema interpretativo che ha degli svolti pesantissimi in termini di giustizia sociale, poi dall'altra parte si estendono queste modifiche dei termini di impugnazione di decadenza anche, non soltanto ai trasferimenti ma si dice specificamente anche a materia di applicazione dell'articolo 2.112, quindi in questo caso non possiamo più utilizzare 5 anni ma i 270 giorni e guardate bene che in materia di trasferimenti così come sottolineato l'avvocato Cirillo andare a capire, immaginate in mezzo a collegamenti societari, gruppi societari, movimenti finanziari, continui trasferimenti, magari il tempo che è stato trasferito già ne hanno trasferito in altre aziende e l'azienda precedente non esiste più, se è possibile presentare un ricorso dignitoso entro 270 giorni quando ancora tu manca hai capito dove loro vogliono arrivare, dove tutta questa gente vuole arrivare e io credo che il legislatore queste cose sappia perché quantomeno una legge dovrebbe essere basata sulla conoscenza, prima vedi come funziona quel mondo che tu stai tentando di derregolamentare piuttosto che regolamentare e dopo di che fai le leggi. Un altro punto in cui viene toccata la materia dell'esternalizzazione è quella dove si sottolinea che il giudice non può entrare nel merito delle valutazioni sostanzialmente aziendali del cedente e del cessionario perché si fa riferimento all'articolo 2112, tranne che deve solo effettuare una valutazione circa i requisiti di legittività del trasferimento, io credo che possa essere ritenuto pacifico il fatto che il giudice non è che entra in materia di trasferimento nel valutare l'autonomia del ramo non è che entra nel merito delle scelte aziendali, cioè se io Telecom Italia con il ramo SSC decido di esternalizzare una parte dell'information technology, non è che il giudice mi dice no, non lo puoi fare, se non lo puoi fare, però io giudice, siccome l'articolo 2112 impone al giudice di verificare se quel ramo di azienda presenta i requisiti di imprenditorialità, allora il giudice deve verificare quel requisito di legittimità, quindi perché fare una norma di questo tipo? Io credo che abbia più una valenza politica di creare una certa confusione in questa cosa, quindi ricordiamo che i tre ambiti fondamentali in cui è toccata la materia delle esternalizzazioni sono per quanto riguarda la causa compromissoria, per quanto riguarda la riduzione dei termini per la presentazione del ricorso a 270 giorni e per quanto riguarda in questo caso la possibilità del giudice di entrare al merito di queste scelte. Anche qua c'è tutto un discorso che si potrebbe fare perché io sono d'accordo con te, fino ad oggi per quelle che sono state le esperienze vissute con le cessioni nel gruppo Telecom, i giudici hanno dichiarato la inesistenza del ramo d'azienda, però le motivazioni della sentenza abbracciavano anche degli aspetti legati alla difficoltà di delimitare il perimetro del ramo ceduto, al discorso che certe attività erano rimaste internamente, allora nel momento in cui tu metti questi paletti, condizioni comunque il ragionamento che il giudice può fare perché potresti congetturare che la valutazione della scelta imprenditorale di conservare certe attività non rientra nelle competenze del giudice, allora il giudice fa un altro ragionamento, dice ma gli strumenti che tu hai ceduto non mi sembrano idonei a poter svolgere un'attività di impresa, secondo il concetto dell'autonomia funzionale del ramo, allora uno potrebbe dire ma tu non puoi valutare se per le esigenze produttive sono supportate da questa, allora è ancora una volta un tentativo per condizionare sempre tu e limitare sempre di più l'accertamento del giudice, perché nel momento in cui tu oggi lo scrivi il giudice che ha un ruolo ovviamente molto delicato e importante sarà probabilmente un po' condizionato nella stesura della sentenza e nella scelta delle motivazioni rispetto a prima, quindi io non trascurerei questo aspetto invece perché secondo me è un ulteriore, come posso dire, un warning allarme che viene dato al magistrato nel momento in cui deve appunto motivare la sua decisione, onde evitare che la stessa possa essere poi in sede di appello oppure in sede di legittimità di finanza della corte di Cassazione, la riformata, quindi sono tutti interventi che mi permetto di dire in un momento così delicato del nostro paese di crisi occupazionale, mi sembrano dei passaggi indietro e non davanti, il termine dei 60 giorni e dei 270 giorni, io posso capire che in un caso di licenziamento oggi possa durare nel nostro paese, dipende dai tribunali, tre anni, allora l'azienda che perde la causa è tenuta a pagare al lavoratore tre anni di stipendi, magari il lavoratore con un contratto a tempo determinato ha deciso di agire dopo due anni, ora non è che il lavoratore decide di agire dopo due anni, il lavoratore in buona fede in assenza appunto di una certa informazione anche da parte del piacere sindacale non ha neanche la consapevolezza di poter fare causa, quindi si trova a parlare magari con un collega che l'ha fatta e quindi agisce dopo due anni, due anni mezzo o tre anni, fa la causa e appunto la causa dura il tempo che dura e quindi l'azienda, quindi io posso capire che le cause di licenziamento hanno procurato e procurano alle aziende un danno perché a causa delle lungaggini il risarcimento che devono corrispondere è esoso, però innanzitutto c'è sempre la possibilità da parte dell'azienda di fare una valutazione del rischio e di riprendersi il lavoratore, uno. Ma in ogni caso tu non puoi andare a ridurre il diritto di difesa del cittadino ragionando in un senso che chiaramente voglio dire a favore dell'azienda, né puoi venirmi a dire che lo fai perché le cause durano tanto tempo, perché ridurre il diritto di difesa e di accesso alla giustizia non ha nulla a che vedere con i tempi della giustizia, i cui tempi lunghi devono essere risolti evidentemente in un'altra maniera. E chiudo, ma qua anche la legge politica, perché? Perché quando sono state fatte le cause dei contratti a tempo determinato, quando il lavoratore agiva dopo 2-3 anni, il datore di lavoro cosa eccepiva? L'acquiscenza tacita alla risoluzione del rapporto di lavoro. Cioè diceva, scusami ma io ti ho licenziato 3 anni fa, tu dopo 3 anni mi vieni a fare causa, per me tu hai dato la risoluzione tacita al rapporto di lavoro, cosa che hanno fatto anche con le cessioni di lavoro d'azienda, perché c'è chi ha impugnato la cessione dopo 4 anni, dopo 4 anni viene a impugnare la cessione, hai dato un'acquiscenza tacita alla risoluzione del rapporto di lavoro. Visto che la Cassazione ha chiarito che non è il tempo, il parametro, ma è la condotta del lavoratore, questa legge ha risolto il problema, perché in questo momento in poi tu, che sappia di poter agire, che non sappia di poter agire, se passano 270 giorni, o meglio se passano 60 giorni dall'impugnativa e 270 giorni dall'impugnativa stessa, non puoi più fare niente. Tra le altre cose, si applica i contratti a tempo determinato, anche scaduti, per cui un ragazzo che 2 anni e mezzo fa, lo stesso un anno fa, 8 mesi fa, è stato licenziato legittimamente, dovrebbe essere stato utilizzato magari per 5 anni con un contratto a termine, se entro 60 giorni non invia la raccomandata, non potrà più fare causa e perderà la possibilità, probabilmente, di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Quindi mi sembra che da qualsiasi punto di vista la guardiamo, anche voglio dire a girarla 3-4 volte. Io trovo molti più aspetti negativi e preoccupanti e lisivi delle garanzie dei diritti che c'erano prima rispetto ai vantaggi che questa legge potenzialmente potrà avere.